Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come togliere quella notifica del CAPS maiuscolo ogni volta che andate a premere il tasto CAPS LOCK per fare la maiuscola, quella grande e ti esce una notifica sullo schermo che dà anche un po' fastidio ovviamente esce anche un suono quindi quello pure può dare fastidio quindi in questo caso tu vai su esegui oppure fai tasto START il logo di Windows più R di Roma e scrivi CTRL ACCESS.CPL e fai OK una volta entrati in questo pannello andiamo su facilita l'utilizzo della tastiera e da qui in poi potrai disattivare tutto quello che fa la tastiera quindi attiva tasti permanenti, attiva segnali acustici, attiva filtro tasti, attivi, disattivi veramente tante cose o lo attivi o lo disattivi se non dovesse funzionare perché una volta fatto tutte queste cose togli tutte queste spunte tipo attiva tasti permanenti o attiva segnali acustici io adesso premo il tasto dovrebbe sentirsi il suono fastidioso lo tolgo e fai applica se non dovesse funzionare chiudiamo qua e andiamo su notifiche e azioni clicca su notifiche se ci sono delle spunte qua sopra tu togli tutte queste spunte ok oppure fai direttamente d'attivato metti disattivato disattivi tutte le notifiche delle applicazioni quindi speriamo tanto che si è tolta quella notifica che si è tolta quella notifica ovviamente io ho fatto questo tutorial perché mi è stato consigliato mi ha fatto venire un'idea ho fatto delle ricerche questo è il metodo quindi se hai problemi commenta iscriviti se ti è stato utilissimo lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao